Vesuvlog, sigla! Qualcuno è decidere se confermare l'abbonamento, ma sono convinto che una volta che l'avrete provato non lo mollerete più, anche perché in Italia il cinema asiatico è sempre stato un po' snobbato. La maggior parte dei film asiatici arrivano direttamente in home video saltando la sala e poi dopo poco tempo è difficilissimo riuscire a recuperarli. Invece qui avete un catalogo sterminato in cui trovate sia film che magari avete già sentito nominare più di una volta, sia magari film molto meno conosciuti ma che assolutamente una visione se la meritano e sono tutti di altissima qualità. Quindi ogni mese in questa rubrica vi parlerò di due film che secondo me dovreste guardare e non è un canale che consiglio solo chi è appassionato di cinema asiatico come me, ma a chiunque ami il cinema perché un bel film lo è a prescindere dal paese di produzione. Quindi vorrei iniziare con un film che recentemente è stato riportato, anzi portato in sala perché in Italia non era mai uscito nelle sale cinematografiche e quindi magari è un pochino più facile da trovare, ma comunque lo trovate tranquillamente nel Far East Channel. Ed è Memorie di un assassino, Memories of Murder di Bong Joon-ho. Probabilmente uno dei film migliori di questo grandissimo regista che io amo e che magari alcuni conoscono per il film come The Host oppure ancora per Snowpiercer o forse più facilmente per Parasite che è quello per cui ha vinto l'Oscar ed è il film che per qualche tempo ha fatto tornare la febbre per i film asiatici, soprattutto sudcoreani, perché se è vero che il cinema asiatico in Italia spesso è snobbato è vero anche che nel corso del tempo ci sono stati dei periodi in cui imperversava la mania per alcuni generi, ad esempio nei primi anni 2000 con l'avvento del The Ring di Gore Verbinski si potevano trovare anche nelle sale, per fortuna è stato un bel periodo, tantissimi horror asiatici, giapponesi, sudcoreani, cinesi, insomma è stato un bel momento poi è tornato il silenzio assoluto e ogni tanto c'è qualche film che sblocca la Asian mania ma solo per poco tempo e qualche anno fa, questo è successo per Parasite, poi ne sono arrivati anche altri che hanno fatto tornare un po' l'interesse per il cinema asiatico però diciamo che l'interesse per i prodotti sudcoreani permane per quanto riguarda le serie televisive che negli ultimi anni stanno abbastanza impazzando e questo mi fa piacere per il cinema dipende, a volte sì, a volte no, ma molto più spesso è no comunque sia, questo film io l'ho amato perché è un thriller ma è un thriller diretto da Bong Joon-ho che quindi segue dei tempi che sono molto diversi rispetto a quelli dei film occidentali ed è per questo che io amo tanto il cinema asiatico perché è un cinema che racconta una cultura molto distante dalla nostra quindi i tempi anche per un film thriller sono molto più lenti, si approfondiscono molto di più personaggi sono film in generale che differiscono tanto da quelli a cui siamo abituati e forse anche per questo che nel nostro paese i film asiatici fanno fatica ad attecchire perché magari il pubblico medio da un thriller si aspetta un ritmo serrato ecco, Memoria di un assassino è un film molto diverso ma che secondo me non ha nulla da invidiare a film di genere che sono osannati come ad esempio uno Zodiac o un Seven di David Fincher poi sono cose anche diverse perché qui c'è lo spettro di questo assassino che non sembra mai emergere veramente, cioè sembra sempre che i due detective Dumas e Taehyun siano sempre lontanissimi dalla soluzione ed è questo che rende il film straordinario con quest'atmosfera cupissima con questa fotografia algida che io ho adorato il rapporto anche tra questi detective che stanno impazzendo quasi letteralmente per cercare di capire chi abbia commesso questi crimini più volte durante il film sembra che siano vicini alla soluzione in realtà poi si rendono conto che tanto vicini non sono e poi si arriva ad un finale che è veramente tremendo nel senso che a me ha lasciato un amaro in bocca incredibile e con questo film Bong Joon-ho ti vuole dire che la realtà molto spesso è diversa da quella che vedi nei film, nonostante questo sia un film a volte i casi non vengono risolti dall'eroico detective all'ultimo secondo non sempre per forza il killer deve essere un qualcuno che fa parte delle conoscenze di chi sta indagando perché una cosa che capita sempre nei film thriller è che l'assassino si scopre essere qualcuno che tu hai visto fin dall'inizio non deve essere necessariamente così è un film molto più realistico nei limiti del possibile e che si concentra tanto sui personaggi protagonisti anche sulla differenza che c'è tra Taeyoun e Duman che sono due personaggi diametralmente opposti Duman è un detective che in un certo senso va in controtendenza con il tipico detective che ci immaginiamo per film di questo tipo e allo stesso tempo anche Taeyoun è molto più schematico rispetto a Duman tra l'altro Duman è interpretato da So Kang-ho che è l'attore feticcio di Bong Joon-ho e lo troviamo nella maggior parte dei suoi film e io sono anche contento di questo perché per me è un attore a dir poco eccezionale e riesce a passare con disinvoltura da un ruolo all'altro tutti diversi tra loro in una maniera che è anche difficile da capire perché comunque purtroppo ci sono tanti attori asiatici che sono bravissimi ma che spesso e volentieri sono impossibilitati per qualche motivo a uscire dalla bolla ci sono tanti attori sudcoreani che non sono emersi fino a poco tempo fa perché per tanti attori asiatici è difficile imporsi nel cinema occidentale invece So Kang-ho lavora più che altro in Sud Corea però negli ultimi anni è riuscito un po' ad emergere ma ce ne sono anche tantissimi come Lee Jung-jae ad esempio ce ne sono parecchie che stanno emergendo poi vabbè dal cinema giapponese ne sono emersi altri io penso a Ken Watanabe, Tadano Boazano ad esempio pensate anche a Shogun che sì va bene è una serie televisiva ma che ha fatto emergere attori come riemergere perché ad esempio Niro Yuki Sanada aveva già diciamo sfondato quella barriera però con Shogun lo ha fatto ancora di più quindi tra cinema e tv un po' le cose si stanno effettivamente morendo comunque sia tornando a memoria di un assassino è un film che se non avete mai visto dovete assolutamente guardare non parliamo della regia di Bong Joon-ho che per me è straordinaria ma sotto tantissimi punti di vista ad esempio ci sono delle inquadrature che sono quasi delle coltellate tanto sono taglienti, affilate è un film asciuttissimo un film che ti mette un'angoscia estrema dall'inizio alla fine crudo ma non solo da un punto di vista visivo anche nelle descrizioni ma soprattutto nel raccontarti l'impatto psicologico che ha la vicenda sulla mente dei personaggi i due detective sono veramente ormai ossessionati dal cercare di capire che cosa sta succedendo chi ha ucciso quelle vittime da un certo punto di vista io ho sempre pensato che Prisoners di Denis Villeneuve sia stato fortemente influenzato da Memoria di un assassino di Bong Joon-ho perché è un film veramente algido che è lo stesso termine che usato per descrivere la fotografia nel senso che c'è una freddezza che ti pervade fin nelle ossa però allo stesso tempo è un film che non si vuole distaccare troppo dallo spettatore anzi cerca di coinvolgerlo dall'inizio alla fine tu ti affezioni a questi personaggi che vedi piano piano crollare e distruggersi perché sono continuamente depistati sembrano sempre vicini alla soluzione ma in realtà l'assassino che è sempre invisibile gioca con loro questo mostro che in realtà è un essere umano perfettamente consapevole della situazione che ha creato e che vuole portarla avanti vuole forse il suo obiettivo più che ammazzare le vittime è far impazzire le persone che lo cercano è come se le reali vittime nella sua testa non siano tanto le persone che ha ucciso ma per l'appunto i detective gioca con loro come se fossero delle pedine su una scacchiera ed è un thriller veramente particolare non è un thriller come quelli che si possono trovare in giro tra l'altro io non capisco perché non sia mai stato portato in Italia prima di qualche tempo fa perché poi quando è arrivato nelle sale è stato parecchio visto nonostante fosse un film di parecchio tempo prima perché stiamo parlando di un film del 2003 che da noi è arrivato in tempi recenti quindi rendetevi conto una ventina d'anni dopo è arrivato nelle sale però è arrivato nelle sale tantissimo tempo dopo questa cosa lascia abbastanza di stucco cioè un film di 21 anni fa se lo guardate adesso vi chiedete ma veramente sto film è uscito 21 anni fa sembra uscito l'altro ieri infatti tante persone mi avevano scritto quando ero andato in sala hai visto il nuovo film di Bongiunho? ho detto non è nuovo ha tipo 20 anni ah non sembra eh no non sembra no è questa la forza di memoria di un assassino memory of murder perché secondo me è proprio una di quelle visioni imprescindibili in tanti mi chiedete ma quali sono i film che bisogna vedere assolutamente memoria di un assassino di Bongiunho lo metterei assolutamente nel novero perché a distanza di tanti anni penso si possa dire è un vero e proprio capolavoro e da questo non si scappa diciamo che la prova del tempo l'ha superata perché se dopo 21 anni siamo ancora qui a parlarne direi che stiamo parlando di un grande capolavoro quindi date un'occhiata sul Far East Channel a memoria di un assassino di Bongiunho e non ve ne pentirete dalla Corea del Sud passiamo al Giappone e vi voglio parlare di un film che ho già citato prima che ha fatto scuola e che credo un po' tutti conosciate ma non è detto che tutti l'abbiate guardato mi riferisco a The Ring quello di Deo Nakata giapponese del 1998 che però da noi in Italia è uscito diverso tempo dopo sull'onda del remake di grande successo diretto da Gore Verbinski è un film che è importantissimo in quanto ha sdoganato l'oro rasiatico che da quel momento in poi per qualche anno come ho detto prima avrebbe impazzato un po' dappertutto non solo in Italia ma in generale nel mondo con film come i Ju-On The Grudge o Yu-On non ho mai capito come si pronunciano poi io mi ricordo un bellissimo Two Sisters che invece se non sbaglio era sudcoreano ne uscirono veramente un sacco in quel periodo io onestamente rimasi abbastanza allibito guardando questo film che tra l'altro lo trovate su Faris Channel come The Ring però in altri paesi si chiama solo Ring oppure lo si chiama col titolo giapponese Ringu e devo dire che dopo aver visto quello di Verbinski io pensai vabbè non potrà fare più paura di quello considerate che ero un ragazzino avevo forse 13-14 anni ero piccino ed ero anche un grandissimo cacasotto quindi già mi mise a dura prova il The Ring di Gore Verbinski poi guardai quello giapponese perché sulla rete italiana di MTV ebbero questa grande idea di portare questi film visto che se non sbaglio in sala non arrivarono mai visto che stava avendo un grande successo con l'americano portarono su MTV i Ringu giapponesi io vidi il The Ring di Nakata il primo quello di cui sto parlando e rimasi allibito perché era un film molto più angosciante rispetto a quello di Verbinski che era proprio occidentalissimo molte delle cose che si vedevano nel The Ring giapponese erano state banalizzate poi non fraintendetemi io adoro i film di Verbinski ci mancherebbe altro però se lo devo paragonare a quello giapponese è cento volte più inquietante anche fantasioso e secondo me la Sadako del film giapponese che è diciamo è quella che nel remake sarebbe diventata Samara è spaventosissima anche se hanno puntato molto di meno sul trucco ma forse è proprio quello il punto è una bambina dallo sguardo cattivo che fa una paura incredibile invece siccome noi occidentali dobbiamo essere molto più didascalici trasformiamola in una tizia putrescente nel film giapponese no e questo mi spaventò molto di più di quello che vidi nel film di Verbinski aveva anche delle soluzioni visive che ovviamente oggi magari sono un po' invecchiate come all'inizio quando ci sono le due ragazze che fanno la conoscenza con Sadako c'è questo fermo immagine con l'immagine che va in negativo che però all'epoca non dico che mi terrorizzò ma mi inquietò tantissimo perché l'avevano mantenuta questa cosa più o meno a livello di suggestione nel remake però ha proprio un effetto diverso anche registicamente la regia di Nakata è molto più asciutta è una cosa tipica di tanti film asiatici il fatto che spesso e volentieri vengano proprio tagliati i fronzoli sono molto diversi soprattutto se parliamo di cinema giapponese rispetto a noi occidentali proprio nel gusto noi tendiamo a rendere tutto non sempre per amore del cielo ma se si parla di film commerciali tendiamo a rendere tutto sempre chiarissimo sempre molto didascalico ha un farcillo di spiegoni Nakata invece racconta questa storia che tra l'altro è ispirata a una leggenda giapponese in una maniera che è tratta da un romanzo da una serie di romanzi il primo era per l'appunto Ring di Koji Suzuki e quindi taglia proprio tutti i fronzoli è anche bello vedere come gli spazi siano un pochino più angusti perché comunque ovviamente la prima scena ambientata in un tipico appartamento giapponese che è molto più piccolo rispetto alle cagione che vediamo di solito nei film statunitensi perché è proprio un modo di vivere completamente diverso da quello a cui siamo abituati in occidente quindi gli spazi spesso e volentieri sono molto più piccoli per cui io vidi la prima volta e gli stessi vabbè però non è ricordate che era un ragazzino non mi sembra questo questo grande cioè è un appartamento come quelli che possiamo trovare qua in Italia magari appartamentini un po' piccoli non è la classica ambientazione che ti aspetti da un film horror perché siamo abituati a film horror d'oltreoceano un film horror che ti ti portano sempre gli stessi stilemi anche a livello di ambientazioni e quindi vedere l'inizio di questo film in questo appartamentino pensi boh un appartamento minuscolo e poi poi vedi vedi com'è girato vedi come questo ambiente angusto fa gioco all'atmosfera e a quello che il regista vuole raccontare e rimani assolutamente stupito e la protagonista è Reiko Osakawa interpretata da Nanako Matsushima che è stata bravissima e guarda un po' il coprotagonista è Iroyuki Sanada che ho citato prima quindi è un film con degli attori che in Giappone erano già molto famosi da noi meno però sono bravissimi nell'interpretare questi due personaggi che si trovano ad avere a che fare con qualcosa di sovranaturale ma soprattutto è lo svolgimento che è interessante quando iniziano a capire chi era Sadako tra l'altro la storia di Sadako è un po' più complessa rispetto a quella che vediamo nel remake che nel remake come ho detto hanno semplificato un po' tutto poi di base è identico cioè la storia è quella e l'hanno seguita in maniera anche abbastanza fedele se vogliamo ma togliendo tutto quello che è affascinante cioè la questione di Sadako è interessante perché è legata alla madre io non vi dico granché non voglio fare troppo spazio perché nonostante sia un film ormai di 25 anni fa anzi di più di 26 anni fa in tanti non l'hanno visto se non avete la mia età e non guardavate MTV potreste non aver mai visto il The Ring giapponese ma fatelo perché veramente è un film interessante anche logisticamente secondo me non era niente male ci sono un paio di soluzioni registiche soprattutto quando vediamo Sadako chiaramente per la prima volta che sono davvero inquietanti soprattutto fa tantissimo la colonna sonora che per me è nettamente superiore a quella del remake soprattutto sul finale ecco anche il finale il finale tendenzialmente è più o meno lo stesso del film che tutti conoscete di Verbinski ma a mio modesto avviso è un finale che ha una connotazione più amara perché è tutto costruito con questa musica che incalza con questa voce narrante che piano piano dà voce alla paura e all'angoscia della protagonista è bellissimo cioè è un finale secondo me molto più interessante nonostante il concetto sia quello è più interessante rispetto a quello che ci proponeva Gore Verbinski ma ci sta perché comunque quel film doveva ricalcare un gusto che non era quello giapponese doveva ricalcare il gusto più occidentale quindi hanno dovuto semplificare e rendere un pochino più piatte alcune cose perché comunque il The Ring giapponese è un film molto più filosofico un film che riflette molto di più anche sul male cioè riflette su che cos'è il male da dove può provenire il male e come fai a sconfiggere eventualmente il male perché Sadako fa quello che fa è molto più profonda la storia di Sadako e le sue motivazioni in questo film perché Sadako è il male e il male molto spesso si origina per le vie più inaspettate quindi ho preferito di gran lunga la storia della bambina in questo film che nel film occidentale in cui è molto più terra terra mettiamola così quindi tra un'ottima regia una buonissima fotografia interpretazioni estremamente convincenti e un'atmosfera inquietantissima che non abbandona mai lo spettatore dall'inizio alla fine il The Ring giapponese secondo me è estremamente più bello rispetto al rispetto al The Ring statunitense tra l'altro trovate anche gli altri film gli altri Ringu su Far East Channel secondo me potete guardare anche quelli se non sbaglio anche il secondo è diretto a Nakata meno bello del primo ma comunque assolutamente da guardare se non l'avete mai fatto fatelo perché potrebbe piacervi detto questo io vi ricordo che potete abbonarvi a Far East Channel la sera 99 al mese su Prime Video quindi trovate il canale Far East Channel su Prime Video e potete prima di confermare l'abbonamento usufruire della settimana di prova gratuita detto questo io vi abbraccio vi ringrazio grazie per avermi seguito fin qui e noi ci vediamo al prossimo un buon blog ciao a tutti grazie a tutti